Anticipazione un posto al sole, venerdì 4 ottobre 2019. Mia ed Alex si preparano a lasciare Palazzo Palladini. Vittorio sembra rassegnato all'idea che la sua storia con la Parisi sia giunta al termine. Filippo e Serena non sembrano in grado di accorciare la distanza che si è creata tra loro. Il loro felice matrimonio è solo un lontanissimo ricordo. Una proposta di Dennis intanto mette Giulia di fronte ad una decisione davvero difficile. La donna è di fronte a un vivio. Intanto una richiesta da parte di Michele mette Arianna estremamente in difficoltà. La donna è di fronte a un vivio.